Ciao a tutti qui Mascore numero 1 e benvenuti in un nuovo video. Ieri io e Mascore numero 2 abbiamo ucciso questi due calabroni e quindi ve li volevamo far vedere. E un rituale che faremo ogni volta che uccideremo dei calabroni è metterli dentro un bicchiere qualsiasi, però trasparente spero per ritrovarlo e uno così si vede meglio. E quindi lo metteremo dentro questo bicchiere e rimetteremo sopra questo tappeto con la faccia che ride. Ecco la loro punizione per aver ucciso tutte quelle api che hanno ucciso nella loro vita. Quanto godo che sono morti. Ciao a tutti.